un corriere saluto ben ritrovati anche per la pagina sportiva del tg noi apriamo con il calcio lucchese dunque quasi alla rifinitura in vista della trasferta di domenica a bra allo stadio attilio bravi rossoneri cercheranno l'ennesima impresa in trasferta dopo quella di due settimane fa a caronno per tusella quando nel finale rimontarono da 0 2 a 3 a 2 monaco che è squalificato sarà sostituito in panchina da carruezzo e dovrebbe optare ancora per il 4 3 3 intanto causa maltempo e la forte pioggia venerdì pomeriggio la truppa rossonera si è allenata sui campi in sintetico di san vito sabato la partenza per il piemonte capitolo formazione novità in mediana dove meucci e fazzi prenderanno il posto di presiccia e nolè per il resto dovrebbe essere confermata la squadra che domenica scorsa ha battuto per 2 a 1 la lavagnese facciamo il calcio e passiamo ai motori un altro nome pesante tra i protagonisti dell'ormai imminente rally del ciocchetto memorial per i sinot che si disputerà la prossima settimana parliamo di alessandro perico il 43enne pilota bergamasco avrà le note il suo storico navigatore mauro turati e correrà con una volkswagen polo r5 un altro nome importante che va aggiungersi come sapete a quello di paolo andreucci parliamo di basket domenica match clou del massimo campionato di basket femminile al palatagliate lucca contro venezia è una partita fortissima ma parafrasando il primo che cozzalone quello di zelig forse anche una squadra fortissime già perché dopo nove giornate quando ne mancano ormai poche al giro di boa il jesan lemura di cocci urlaro ha dato ampia dimostrazione di essere compagine solida affidabile continua nel rendimento finora sette vittorie due sole sconfitte nell'opening day con raguse al palatagliate contro l'inarrivabile schio dominatrice da anni del campionato italiano solo lucca nel magico 2017 ne ha spezzato le genomonia tricolore lemura come testimoniano le nostre immagini reduce dal brillante successo di empoli sulla usa scotti che non era poi così scontato eppure ravelli e compagni lo hanno fatto con piglio e convinzione autentiche corsare del parquet domenico ore 18 arriva la reier venezia squadra lagunare di cocci e ticchi infarcita di blasone di una cifra tecnica imponente sarà un'altra partita ardua e difficile che però le biancorosse vogliono vincere per fare anche una dedica speciale alla loro sfortunata compagna silvia pastrello che lunedì andrà sotto i ferri il pallone a spicchi racconta che sarà l'ottavo confronto al palatagliate con bilancio che pende leggermente dalla parte delle ospiti quattro vittorie di venezia contro tre di lucca l'ultima volta risale al 2 dicembre 2018 poco più di un anno fa il match non ebbe molta storia con le venete che presero largo già nel primo quarto e si imposero 74 a 54 le mura lottò ma francamente la superiorità delle ospiti parvenetta domenica potrebbe essere un'altra musica in tal senso si attende il pubblico delle grandi occasioni a sostenere calorosamente una squadra che sta facendo sognare ma al palatagliate si giocherà anche sabato alle 18 e 30 per il campionato maschile di serie b il genova dunque torna in casa e ospiterà il cecina dell'ex tecnico che ha guidato a suo tempo l'arcantea roberto russo due squadre lucca e cecina che finora hanno dimostrato davvero un cammino del tutto simile ragazzi di catalani hanno alternato prestazioni eccezionali ad altre decisamente insufficienti palla due come dicevamo sabato alle 18 e 30 si gioca anche nel campionato di ocche su pista dopo la bella vittoria di correggio il ccc viareggio torna sulla pista amica del palavarsacchi sabato sera alle 21 i bianconeri di francesco dolcio ospiteranno il montebello vicentino gara abbordabile per le zebre che potrebbero così consolidare il quarto posto e magari tentare di attaccare la terza posizione del valdano le altre partite della tredicesima giornata si giocheranno tutte mercoledì 14 dicembre una conferma e un nuovo arrivo per la pro cycling team di manuel fanini che già iniziata a lavorare in vista del 2020 dell'anno agonistico appena concluso l'unica rimasta alla corte di manuel fanini è leonora geppi il primo volto nuovo invece la vediamo nell'altra foto si chiama giulia luciani eccola qua quindi volto nuovo il primo volto nuovo per la squadra di manuel fanini e chiudiamo con il ciclismo perché ci sono importanti novità sulla prossima tirreno adriatico grosse novità in vista per la 55esima edizione della tirreno adriatico considerata una delle brevi corse a tappe più importanti al mondo anche nel 2020 dall 11 al 17 marzo la corsa dei due mari scatterà dalla versilia ma non più con una cronometro a squadre bensì con una tappa in linea lido di camaiore lido di camaiore di 134 chilometri con il monte pitoro da scalare tre volte la tappa è suddivisa in due parti entrambe in circuito nei primi 90 chilometri circa si percorrerà tre volte il circuito del monte pitoro con la salita dal versante di massarosa un circuito di circa 26 chilometri scendendo poi su camaiore dopo il terzo passaggio si inizieranno invece due giri quasi completi di un grande circuito di circa 19 chilometri tra pietra santa e lido di camaiore completamente pianeggiante dunque spazio e grandi velocistiche sicuramente saranno presenti alla corsa il giorno dopo la partenza della seconda tappa di 198 chilometri che porterà i girini da camaiore a follonica senz'altro un grande appuntamento per gli appassionati di ciclismo il prossimo 11 marzo è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva una breve pausa il tg prosegue poi con la terza ed ultima parte